Bruno, allora voi residenti qui di questa zona lamentate un po' un inquinamento di genere acustico importante, è un po' di tempo che si verifica questa brutta e incresciosa situazione. Vede, io mi rendo conto che siamo qui in estate, mi rendo conto che Fano in estate è animata da tante attività, tante belle cose, tutte giuste, però diventa insopportabile e non si può accettare l'uso che molti motociclisti fanno dei loro mezzi, motociclisti di grossa cilindrata, scooter, motorini, sembra che faccia una gara ma chi fa più chiasso, questo è indecente, è fuori le norme, è fuori le buone regole del quieto vivere, è fuori la legge, perché la legge impone certi limiti ai decibel, io non chiedo alla luna, io vorrei soltanto che qualcuno, voi, la stampa, il comune, facciano qualche cosa per cercare di prevenire, di attenuare l'abuso di questi motociclisti non educati, per non dire maleducati, io sono stato qualche anno fa a esporre questo caso già alla centrale sulle mura della polizia locale, sono uscito sconsolato dopo tutto quello che ho sentito dire, incapacità, non agenzi, non avere le capacità del decibel, tutte le impossibilità. Qualche giorno fa, il 28 agosto, sono stato ricevuto dopo averlo chiesto, in comune, dal sindaco e da una rappresentante della polizia urbana, hanno capito le mie aspettative, hanno capito la sofferenza che noi cittadini qui chiamiamo Fano subiamo ogni anno in estate, mi hanno promesso che si attiveranno per calmirare questi abusi di inquinamento acustico, che prenderanno delle misure per questo e io li ringrazio ancora, però ciò non toglie che io chiedo ancora aiuto a tutti quelli che possono, io aspetterò, perché sono fiducioso che le autorità che così si sono espresse faranno qualche cosa, ma purtroppo se nei tempi ragionevoli io non vedessi nulla di quello che mi è stato promesso, mio malgrado dovrò continuare questa azione di sensibilizzazione, forse con altri mezzi aiutateci a contenere questi eccessi affinché viviamo un po' più tranquilli, tutto qua.